Questa delle zanzare l'ho sentita tante volte e non c'entra il trapianto ma c'entrano i farmaci, probabilmente cambia qualche odore, sapore eccetera che attira le zanzare perché non è il primo che lo dice assolutamente. Per quanto riguarda la sua domanda sul terzo trapianto, allora il trapianto non parliamo di terzo o secondo perché come ho detto è uguale, cioè è il terzo se uno ha fatto il tandem, è secondo se uno ha fatto il primo. Il trapianto di salvataggio tra virgolette appunto si fa se in genere il primo trapianto che si attende a un singolo ha avuto un buon successo, una buona durata ed è chiaro che adesso in recidiva il trapianto autologo va confrontato col successo di tutti i nuovi farmaci, quindi va valutato se vale la pena fare un trapianto oppure fare le combinazioni dei nuovi farmaci. In remissione non ha nessun senso ovviamente adesso. Sì certo, infatti volendo uno può testare dopo un po' gli anticorpi per vedere se è protetto dalle vaccinazioni che aveva fatto perché ovviamente l'immunosoppressione indotta non solo dal trapianto ma anche dal cortisone, dai farmaci eccetera può far perdere la memoria immunitaria. Grazie. Grazie.